Sono stati arrestati dai carabinieri questa mattina a Termoli il 24enne Angelo Di Santo ed il 26enne Luca Cinà sarebbero i responsabili della rapina messa a segno lo scorso 18 gennaio nella sala scommessa Planet Win della cittadina adriatica. All'alba sono scattate le manette ai polsi dei due, poi il trasferimento nel carcere di Larino con le accuse di rapina a mano armata, un colpo che aveva fruttato circa 2000 euro ai giovani già noti alle forze dell'ordine. Entrambi a volto coperto erano entrati nella ricevitoria minacciando i presenti con un fucile modificato ed un coltello, ma già poche ore dopo il colpo i militari coordinati dal logotenente Giuseppe Nestola avevano ritrovato a Pozzo Dolce, sotto un cespuglio, armi ed abiti utilizzati per compiere la rapina. Le indagini hanno così portato i carabinieri a risalire ai colpevoli che già domani potrebbero essere interrogati dal magistrato. Non è escluso che due malviventi possano essere coinvolti in fatti simili come le rapine nella farmacia Porticone e difesa grande avvenute qualche settimana prima, vicende sulle quali stanno lavorando in stretta collaborazione carabinieri e agenti del commissariato di Via Cina.